Un percorso che è iniziato a fine settembre per indagare personaggi e tematiche femminili che abbiamo chiamato infatti una stanza tutta per noi, facendoci al mondo stato di Ergenia Porto, quindi il senso poi è questo, noi oggi non presentiamo uno spettacolo con mesi di prove, o iperstrutturato, non ci interessava questo, ci interessava farvi assaggiare un po' quello che abbiamo fatto, farvi respirare un po' la nostra conoscenza, quella di questi incontri e di questo conoscenza, noi, chi è di scena? Una stanza tutta per noi, per raccontare immagini, emozioni, frammenti di vita Una stanza femminile, per raccontare le donne, la stanza dell'attesa, uno spazio diventato Dove il tempo si ferma, resta sospeso, il tempo confonde e si confonge e le donne, da sempre, aspettano Per 40 giorni è stato pure nominare la stessa condizione, parlare con i medici era inutili, Gli dicevano, signora, non puoi sapere nessuno il tempo dell'attesa di circonda, ti avvolge Interminabile E' un treno lento, che arranca sulle rotaie, si dirige verso il morto, ma Maran non sta seduta, composta, è il primo lungo viaggio della sua vita Tutti aspettano nella vita, è vero, ma ci sono persone, soprattutto noi donne, che non fanno altro che aspettare Mi sono abituata a vivere per pareti anni fuori di me, pensando a cose che erano nuove Ed ora che queste cose non ci sono più, mi aggirò uno spazio già erino, cercando una nere uscita, che non troverò mai Nella stanza dei buoni, una donna deve essere una brava figlia, una buona moglie e una madre esentale La storia ha ricoperto la donna di etichette E chi sono veramente? La donna o l'attrice? Mi guardo nello specchio, cosa vedo? Mi guardo, ma non vedo ciò che vorrebbero gli altri Sono ancora, la bambina spaventata Mi guardo e non mi vedo Che sono io, la brava moglie, la madre perfetta La stanza è soffocata, come se ti togliesse la mia, camminare senza avere più forza Piangere fino alla nausea Urlare senza voce Sentirsi esplodere Uno, non toccare le lancette Due, domina la rabbia Tre, non inaugurarti mai ecco i mai Questo filo, questo filo è l'ultimo che ancora mi rilaccia a noi Sono cinque anni le due di te Adesso ho un po' d'ossigeno, perché sto parlando, ma se tu tagli, tagli il tubo No, niente, niente, niente No, non preoccuparti, non sono il tipo che tu non mi rilaccia a noi So che questa relazione è ancora più prudere a farsi dalla tua parte che dalla mia Un ragazzo, un mamma Ed io ero, giovane, giovane Quando avevo 16 anni, la rivelazione, l'amore Abbastanza del dolore Le donne hanno più confidenza con il dolore Il dolore del corpo, dell'amore Giovane Mamdina Tu morisci Il dolore Chciaio Ce anggian mentre ancora respiri. Ogni donna è scura, articolare, giovane. Ogni donna ha gli occhi duri. Ogni donna è sparita. La stanza della pazzia! La stanza della pazzia! La stanza della pazzia! E' un po' di luci! E' di nuve! Senti le voci? Vieni! Vieni con me! Entra nella mia testa! Mi passa una pasticca! E tutto passa! Mamma mia! No! 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 Lasciatemi andare! Smettetela! Lasciatemi andare! Smettetela! 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 Di buttarmela addosso in pareti! Di buttarmela addosso! Così strette! Così strette! Così strette! Un messiere antico! Già silenzi! Forte! Ma l'acqua non tutto lava! Non lava la storia dei pregiudizi, degli stereotipi! L'acqua non lava la stupidità dei certi giudizi! Non lava il sangue di tanti soffrusi! Tu puoi strobinare forte ma l'acqua non tutto lava! Ci vuole ancora tempo e coraggio! Ciao! Ciao! Una stanza per essere pazzi, anche se spesso la pazzia è solo un modo diverso di vedere le cose. Ma oggi non ci bruciano più per questo. Una stanza per gridare il nostro dolore. Ma una stanza non è per te abbastanza per contenerlo tutto. Una stanza per uomini, per ricordarci di tutte le tipite che ancora in questi anni e che rassicurano gli uomini, che in questo modo si sentono più uomini. Ma per fortuna non sono una stanza tutta per uomini, dove raccontarci, emozionarci, ridere e piangere se ci va. Grazie a tutti.